Le otto montagne di Felix van Groningen con Stefano Borghi e Luca Marinelli. Allora, dico subito che il film mi è piaciuto moltissimo. Adesso, come al solito, prima parte no spoiler, seconda spoiler, anche se alla fine non c'è nulla da spoilerare, solo per parlarvi di alcune scene in particolare. Allora, andiamo con ordine. Dal punto di vista tecnico, per me questo film... Allora, a capolavoro non mi piace mai usarla la parola, però tecnico, quindi regia, fotografia, recitazione, è veramente notevole. Allora, partiamo dalla regia. La scelta del quattro terzi è perfetta. È perfetta perché permette di fare davvero dei quadri, ma anche proprio come composizione, per me è stata azzeccatissima. Poi usa anche l'uso dell'ambientazione, no? Attraverso la regia. Spesso si tende a lasciare l'ambientazione soltanto come un elemento decorativo, no? Dell'azione. Invece qui la montagna non solo la senti, ma fa parte delle vite, dei sentimenti, dei personaggi, quindi è anche una funzione, diciamo, narrativa, poi la montagna, chiaramente, ma anche gli elementi naturali, poi dopo ne parleremo meglio dopo perché devo fare degli spoiler, ma gli elementi naturali fuoco, acqua, vento, terra, montagna, sono tutti usati alla perfezione, anche per riflettere quello che è poi l'andamento della storia, i sentimenti dei personaggi. Cioè, gli elementi naturali diventano la personificazione, non la personificazione, ma la rappresentazione naturale dei sentimenti dei personaggi. E questa è una cosa che veramente ho amato, perché è una cosa che solo i grandi registri riescono a fare, e riescono a fare bene. Mi ha ricordato Ozu, per certi versi, anche Kurosawa, un cinema molto giapponese, anche introspettivo, l'uso degli elementi naturali, il vento lo sava molto Kurosawa, anche Kitano, l'acqua di Ozu, l'incessante fluire del tempo, la caducità della vita umana, appunto il carattere effimero, poi se vogliamo, di ogni fenomeno terreno, che è un po' il concetto del mujo giapponese, tanto caro a Ozu. E quindi questo mi è piaciuto molto, l'utilizzo degli elementi naturali, non solo come elemento decorativo, ma proprio come appunto natura che partecipa non solo alla composizione dell'inquadratura, ma anche alla storia. Dal punto di vista invece della fotografia, adesso sto per dire una cosa forte, però con le dovute pregazioni, mi ha presa con le pinze questa cosa, mi ha ricordato molto come concetto, occhio, la fotografia di Berlindon. Perché? Perché in esterni è luce naturale, è sempre luce naturale, tra l'altro secondo me è stata un'impresa girare questo film, ho letto che venivano portati attrezzatura, maestranze, insomma venivano portati con l'elicottero lì ogni volta, quindi insomma sarà stata anche un'impresa a livello fisico. Quindi luce naturale in esterni e all'interno le candele. Le candele chiaramente coadiuvate da luci, per esempio quelle sui elmetti, oppure altre luci sempre diegetiche. Mi è piaciuto questo utilizzo delle luci ecco diegetiche negli interni, in esterni invece naturale. E le candele in particolare chiaramente come è in Berlindon, solo che appunto come ho detto il regista si è dovuto far aiutare da altre luci diegetiche perché non aveva l'obiettivo Zeiss che aveva Kubrick in Berlindon, che era un obiettivo prestato, poi regalato, anzi dalla NASA, che quindi gli permetteva un'apertura e chiusura del diaframma tale da poter riprendere anche con pochissima luce, quindi solo con le candele. Berlindon è un capolavoro della fotografia, ma qui non è che ci siamo vicini, ma il concetto è quello, cioè usare più luce naturale e luci diegetiche in interni possibile. Questo secondo me è molto bello, ti fa entrare proprio a pieno nell'ambiente e nella montagna poi. La recitazione invece, la recitazione anche per me, Stefano Borighi e Luca Marinelli, ma in realtà tutti, l'unica che non mi è piaciuta è Sonia, la mamma del Bruno iniziale, però vabbè, è un ruolo molto secondario, la zia, anzi non la mamma, non si può pretendere tutto, però pazienza. Ma Stefano Borighi e Luca Marinelli fanno un lavoro incredibile, ci sono delle scene, una scena in particolare dove a Luca Marinelli esce una singola lacrima che è clamoroso e anche come mi sono piaciuti entrambi per motivi diversi, cioè nel senso, da una parte, Stefano Borighi più sul parlato, anche perché fa una sforza incredibile, lui è romano, riesce a parlare quel dialetto lì in modo molto fluente. E poi invece Luca Marinelli dal punto di vista delle piccole espressioni, dei modi di fare, delle reazioni anche proprio emotive, quindi in modi diversi mi sono piaciuti veramente tanto entrambi, quindi tanto di cappello e mi dispiace che questo film sia stato poco cagato alla fine, non c'è una recensione qua su YouTube per dire, e poi dicono che in Italia non facciamo cose, cioè questa è una produzione italiana, il regista non è italiano, ok, ma la produzione è italiana, gli attori sono tutti italiani, e è un film veramente bello, ma veramente veramente bello. Ora passiamo alla storia e ad altro, ora non farò spoiler come al solito, li faremo dopo. Ah, un'altra cosa che ho dimenticato di dire per quanto riguarda la regia, mi sono piaciute anche queste inquadrature spesso in campo lungo, campo lunghissimo e altre addirittura in totale, proprio come a far capire un concetto alla fine molto banale, che però è quello della piccolezza poi dell'uomo di fronte alla maestrosità della natura. È un concetto molto banale, ma spesso ce ne dimentichiamo, quindi anche questo stile di come riprendere i personaggi mi è piaciuto molto. Per passare alla storia, allora, il film per me andava un po' tagliuzzato di un quarto d'ora, non per puro gusto personale, è una valutazione oggettiva secondo me questa, un quarto d'ora si poteva tagliare, soprattutto nella parte centrale, io avrei guardato un'altra ora, veramente l'ho amato tantissimo, però nella parte centrale è un po' prolisso, quindi si poteva tagliare, e mi è piaciuto anche molto, mi sono piaciuti i personaggi proprio, perché c'era il rischio di rendere il personaggio di Borghi macchiettistico, no? la natura, la montagna, sai, il santone, che c'era il rischio di renderlo macchiettistico e non lo è stato assolutamente, quindi tanto di cappello, mi è piaciuto questo fatto, e poi chiaramente la dicotomia natura, amicizia, uomo, mi ha ricordato Dessu Zala di Kurosawa, non so se l'avete visto, comunque mi ha ricordato proprio quel film lì, lì chiaramente è un po' diverso, magari andremo a dire nella parte spoiler, perché, però il concetto poi è quello, no? Un uomo di città che si, che instaura un'amicizia con un uomo della natura, no? È un po', è un po' questo. E poi anche il personaggio del padre, molto, adesso non posso dire, non posso dire granché, però, insomma, anche dal punto di vista della storia, a parte questi 15 minuti che secondo me andavano un po' tagliuzzati nel mezzo, molto bene. Ultimo applauso alla sceneggiatura prima di passare alla parte spoiler, non è per niente un film piagnone. A volte i personaggi piangono, ma non è, si vede che non è quello che il film ti vuole fare, il film non vuole suscitare la lacrima facile, ecco. Quindi, questo è un grande applauso perché spesso poi si cade in queste cose che non mi piacciono per niente, quando un film vuole estorcerti la lacrima in tutti i modi, no, non va bene, e questo film non lo fa, quindi tanto di cappello. E ora passiamo alla parte spoiler. 3, 2, 1, eccoci qua. Allora, dicevo, non è un film piagnone perché si vede dalla morte del padre, ok? Quando muore il padre, lì non, 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 non ti suscita, cioè ti suscita malinconia, ma non, non, non ti suscita il pianto, non ti provoca il pianto, ma ti suscita malinconia nei confronti di quest'uomo che lo vedi in quell'inquadratura tra l'altro stupenda di lui in mezzo alla sua fabbrica piena di metallo, no, questo mostro pieno di metallo, contrapposto poi al padre che tu vedi sulla montagna, infatti lui dopo alla fine lo dice, io ho avuto due padri, uno di città che non ho mai conosciuto e uno di montagna che seppur ho conosciuto poco in realtà lo conoscevo molto meglio di quello di città. Quindi il padre prigioniero di una realtà che però non gli appartiene è però costretto dal mandare avanti, dal dover mandare avanti la famiglia, insomma, avere un lavoro, guadagnare per vivere, ecco. Cosa che si rifiuta di fare il personaggio di Stefano Borghi, Bruno, e tant'è che poi ci lascia nel modo più giusto alla fine. Perché ho fatto il paragoni con Dersu Zala? Ho fatto il paragoni con Dersu Zala perché, come ho detto per la dicotomia natura uomo e amicizia, ma la differenza è che Dersu viene ammazzato dalla cupidigia dell'uomo, lo ammazzano per rubare il fucile, quindi viene ammazzato dalla cupidigia dell'uomo in generale. Lui invece viene ammazzato da quella sua voglia di non passare a quella forzata vita di città a cui sarebbe dovuto passare, lui è un uomo di natura, è un uomo di montagna, non ne capisce dei soldi, non appartiene a quella società di cui dovrebbe fare parte per continuare a vivere e invece preferisce soccombere nella sua montagna, mangiato tra l'altro dai corvi come la sepoltura celeste, adesso non mi ricordo il termine preciso, mi pare fosse questo, quindi è stupendo, verrà anche la morte di Borghi, la morte di Borghi dovrebbe distruggerti, dovrebbe farti piangere, no? Invece il film non lo fa, il film vuole provocarti delle riflessioni, non il pianto, e questo è un grandissimo plauso, perché veramente lo fanno pochi film, molti film suscitano il pianto, poi finisce lì, altri invece ti suscitano riflessioni, come secondo me questo. E che altro? Ah, dicevo, il fatto del padre, in quell'inquadratura dove lui è prigioniero di quella, appunto, prigione di metallo che è la sua fabbrica, e lì è tutto il dolore di un uomo costretto in un ambiente non suo, alla fine. lui, il personaggio di Marinelli, che adesso non ricordo, sono una frana coi nomi, non ricordo come si chiama, ma lo capisce, lo capisce solamente dopo, e alla fine anche parlavo degli elementi naturali, quando Bruno Muere, c'è la voce narrante del personaggio di Marinelli, ma io sinceramente lì l'avrei eliminata, avrei lasciato solo l'acqua, si vedono tutte queste riprese di ruscelli, acqua, cascate, e tutto, che era un po' il riferimento che facevo prima al cinema di Ozu, no? Questo usare gli elementi naturali, in particolare l'acqua, anche quello di Kurosawa, per evocare, no? L'incessante fluire del tempo, l'inarrestabile fluire del tempo, e delle cose, dei fenomeni della vita terrena, vita, morte, insomma, queste cose qui, e altra cosa che racconta bene l'incessante fluire del tempo sono le transizioni ellittiche, no? Da, quando deve passare del tempo, non è mai di da scalico, sai, due anni dopo, dieci anni dopo, non è mai così, un personaggio entra in una stanza oppure esce e rientra da un'altra parte, in un altro posto invecchiato. E quindi, capisci, lì in realtà anche questo è un mezzo per farti comprendere come il tempo ci sfugga, no? Sfili via senza neanche accorgersene, senza neanche farci accorgere di questa cosa. Mi sono un po' incartato, ma il concetto è quello. Sto facendo proprio una recensione a flusso di coscienza, perché veramente mi è piaciuto molto, l'ho detto un sacco di volte, ma continuo a ripeterlo. E un attimo che controllo se ho qualcosa altro da dire perché mi sono segnato un po' di cose. Ecco, dicevo prima, gli elementi naturali che sono significanti, non sono messi lì decorativi, ma sono significanti. Perché? Ecco, per esempio, il fuoco è un po' il fuoco della loro amicizia, no? È spento, ma immediatamente quando il personaggio di Marinelli torna lì, Borghi gli riaccende il fuoco prima che lui torni, perché ha saputo della morte del padre e tutto. Quando loro discutono e si ritrovano a parlare per la prima volta lo fanno davanti un fuoco, quando si rincontrano dopo e si riabbracciano si sente lo strepitio del fuoco interno, quindi è un po' quello il fuoco, l'acqua come ho detto, la caducità della vita, il fluire del tempo e delle cose. Che altro? Il vento. Il vento, quando lui arriva per la prima volta lì, il vento che, insomma, gli rende difficile questa cosa, perché lui sta passando da una visione del mondo cittadina, una vita cittadina, a una tutt'altra vita e una tutt'altra visione del mondo e il vento qui è l'ostacolo da superare per poter avere accesso a quella realtà. Quindi veramente anche l'uso dell'ambiente come ho detto, stupendo. E un'ultima cosa, l'inquadratura non quella finale ma quella poco prima, quando lui dice questa cosa non mi è piaciuto molto, nel senso che era un po' telefonata la morte di Bruno quando lui ha detto questa montagna non mi è mai fatto del male era un po' telefonata. Però, sti cazzi, alla fine il film finisce poi lì, no? Però quell'inquadratura dopo che lui dice questo fatto che passa dal particolare proprio come Berlindon con questo zoom all'indietro al totale di questa montagna dove tu quasi dove tu non riconosci più né lui né la sua casa e quindi poi un concetto abbastanza banale che però è importante cioè la piccolezza e l'impotenza dell'uomo di fronte dinanzi alla alla potenza e alla grandezza della natura. Niente, la recensione è finita se siete arrivati fino a qui si presuppone che l'abbiate visto quindi spero vi sia piaciuto nel caso se doveste non essere d'accordo con me commentate fatemelo sapere insomma interagite in qualche modo se vi va e niente noi ci vediamo alla prossima.